L'incidente è questa sera giovedì 29 marzo, poco prima delle 22 a Duzegna, in via Fratelli Berra, angolo via Municipio, a scontrarsi una Dacia condotta da una donna e una Fiat Bravo con a bordo un cinquantenne di Quarnier. Secondo una prima ricostruzione, pare che la Dacia, proveniente da via Municipio, non abbia rispettato lo stop invadendo la carreggiata mentre stava sopraggiungendo la Bravo, che viaggiava in direzione Zegna e che non ha potuto evitare lo scontro. L'impatto è stato alquanto violento, la Dacia dopo lo scontro è finita contro il muro che delimita la carreggiata, mentre la Bravo ha terminato la sua corsa in centro strada. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa e i Carabinieri, entrambi di Rivarolo Canavese. La donna è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Quarnier, non pare in gravi condizioni, illeso l'altro conducente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.